Spelacchio non ce l'ha fatta. Ieri sera stava tanto bene, ma com'è successo? La bete di Piazza Venezia a Roma, il più discusso albero di Natale, è morto. Ma come se l'avvio mi vado a fare? Ma che se muore così? Cioè, apparentemente noi stiamo sotto, guardiamo verso su, non dovremmo vedere il cielo. Santa Madonna, manco le base del mestiere! Sembra un albero depresso? Bellissimo! Se davo 30 minuti di idea al mio falegname, quello me la faceva meglio! Spelacchio, sistemato nel cuore di Piazza Venezia, con i suoi circa 20 metri di altezza, è ufficialmente morto. Andiamo bene, proprio bene! Il comune, che inizialmente aveva spiegato l'aspetto dimesso con la scelta di un adobbo raffinato, eh sì, sì, cazzo! aprirà un'indagine per accertare le responsabilità della sorte di Spelacchio. Che vuol dire? Vuol dire che te la vinde il culo? 48.000 euro, arrivato dal Trentino, che però alza le mani e si difende. Da noi è partito in ottima salute, dunque si è subito uno stress e è stato durante il trasporto. Oh, ma non ci saranno a piaccia il culo questi? No! No? No! Amica, mi sono una tante amica! No, no, no! Mmm!